ciao amiche amici dalla vostra gattaluna ho scoperto una piccola perla sul look fantastica non mi è stata omaggiata e non cominciamo questa influencer che parla sempre bene dei prodotti greci non l'ho ricevuto l'ho comprato perché perché amo molto questo brand che si chiama youth to the people e quello che mi interessa di questo set che loro vendono il prezzo è molto interessante in più avete anche il mio codice sconto che vi da un ulteriore 5% che male non fa su un prezzo che non è di per sé enorme cioè 300 euro 5% che mi frega no questo è molto molto più economico vi metto comunque tutto sotto non vi dico nel video il prezzo perché poi magari ci sono delle variazioni e non vi ritrovate ok quindi dice il sistema si chiama system youth system quindi molto promettente è una come dire una c'è un'azione di miglioramento della pelle e con molti gol diversi riguardanti la vostra pelle e quindi un aiuto ma consistente nel volo creando questo rituale completo e promettiamo nella vostra pelle seguendo le istruzioni in all'interno un visibile e positivo cambiamento infatti qui c'è adesso ve li faccio vedere un detergente viso sono confezioni mia travel quindi per una vacanza adesso no che c'è pasqua magari qualcuno si prende una settimanina noi ci prenderemo dieci giorni anzi forse un po di più quindi c'è il detergente viso questo l'ho già provato diverse volte e lo adoro e poi c'è il siero per il viso poi la crema idratante che si può usare sia di giorno che di sera quindi vi portate dietro il detergente il siero giorno e notte la crema giorno e notte poi se avete bisogno di ulteriore e idratazione l'olio per il viso se non amate gli oli sul viso io per esempio questi li uso sulle braccia sul decoltè fantastico poi il contorno occhi crema contorno occhi e poi c'è anche il trattamento o esfoliante molto delicato è per il viso quindi abbiamo esfoliazione detersione siero viso crema giorno notte per il viso olio per il viso se volete un supplemento di idratazione contorno occhi e appunto abbiamo detto già prima l'esfoliazione tutto contenuto qui dentro naturalmente poi lo trasborderete in una trousse così vi occupa ancor meno spazio volevo farvi vedere che cosa contiene se si riesce ovviamente ad aprire ecco qua qui ci sono le istruzioni queste sono quelle brevi queste sono quelle più dettagliate se volete proprio su tutto il brand e allora vediamo se lo troviamo volevo iniziare dal detergente eccolo qua il kale green tea spinach vitamins e questo è un prodotto top qui l'apertura non ha pampo altro perché è una travel che sono 30 millilitri quindi una settimana hai voglia poi abbiamo il siero giusto il siero alla caffeina siero per il viso poi abbiamo l'olio che è super berry great plus glow dream oil quindi abbiamo detto questi sono cipiri cipiri 8 millilitri il siero sono ma più o meno mi sembra anche questo mattina da due a quattro dosi e dopo si mette l'idratante questo lo colo adesso ho capito lo questo lo uso per il giorno quest'olio sarebbe come siero viso per la notte ok prima di tutto però si pulisce sempre poi abbiamo la crema contorno occhi al goji alle bacche di goji che sono 5 millilitri poi abbiamo la micro abrasione enzimatica quindi questa è delicatissima va a posare anche la pelle più delicata fidatevi perché non ci sono granuli sono degli enzimi che massaggiando con un pochino d'acqua portano poi via tutte le cellule marte e questo invece è anche questo è un superfood il crema il crema la crema viso giorno e notte questa l'ho già usata ho già usato questi due prodotti mi sono sempre trovata benissimo quindi abbiamo il cleanser al mattino useremo il cleanser il siero viso e il contorno occhi la sera invece faremo non tutti i giorni però magari io lo faccio di solito una volta alla settimana dipende dal tipo di pelle comunque ogni tanto sicuramente almeno una volta alla settimana farete questo qua la 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 farete appunto il micro derma abrasione agli enzimi però poi giorno e notte dopo i sieri questo per la notte questo per il giorno metterete sempre una crema quelle per il viso e questo per gli occhi forse ho fatto un po di confusione si è capito vi metto sotto tutti i link le cose eccetera eccetera e vedrete che anche il prezzo è piuttosto interessante tenendo conto certo ci sono come dire prodotti ancora più economici assolutamente sì però qui c'è una qualità cioè questi funzionano io li ho usati su di me questo e questo e devo dire cleanser e crema risultati veramente veramente ottimi quindi alla prossima fate quello che vi fa stare bene vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video fate quello che vi fa stare bene vi do un clandito vi do un 편amento vi do un paletto